e mo tu, cazzo la vantenne che mi si passate i burmi mi porti a mandare per te come raddogliavo il traccio di 10 e il giovane a 11 la possiamo pure ripetere la puoi pure ripetere la possiamo pure ripetere ma ci mangiare di meglio burmi non lo per come non lo per come e noi, gli autori, la dottograzio non gli dice se l'amburdavo, no? in giallo non è che non ci sbagliare le piste questo è profondo, no? attenzione ma allora ma chi sono l'amburda? chi sono l'amburda? non mi ricordo chi sono l'amburda? se uscire buccia non la sento per la spazzata non la sento per il panier ah, non la sento per il panier ah, non la sento per la loro buona placatura ma non la sento per la mandare che viene passata ma non la sento per la mandare che viene passata ma io lo stai però il primo può sapere andare qualche cosa ma io lo mangiare meglio tu vallo porco 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 e poi la piste dice ma i due i due lo percorso va bene le es� vanno capito eh? tu costi uno buccia buccia costi prima 1852 brava brava vanno 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 se uscire da 10 euro a 12 va bene la madre è fatta la scuola la madre è presa che dite? però ti sei un po' trascurato hai fatto un po' di potenza ma non è forte ma ci hai mangiato i pepe frutto dalla parcolla rimarinata ma non è venuto la pesca la prima ma non lo fa ma non lo fa ma non lo fa ma non lo fa